ciao a tutti e ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video allora oggi non andremo con nessuna ricetta ma farò questa piccola panoramica della mia torta che diciamo userò per ringraziare di cuore una persona che comunque non mi aspettavo assolutamente che mi dedicasse un video per il compleanno considerate che io sono molto molto riservata come persona quindi come potete notare non mi sono mai mostrata e non ho diciamo mai detto le mie cose personali insomma su youtube però questa mattina sono rimasta piacevolmente sorpresa perché ho trovato questo video nel canale di mister che vi lascerò qui vicino alla foto del suo ovviamente canale e guarda io non ho veramente parole parole te lo dico mi sono veramente emozionata e mi sono anche messa a piangere sono sincera sono stata felice perché e sono allo stesso tempo adesso emozionata perché non so cosa dire nel senso mi ha fatto un enorme piacere perché io ti considero una persona veramente speciale veramente bravo perché porta comunque sul su youtube dei dei contenuti veramente interessanti e dove io comunque seguo con molto piacere perché ti dico la verità come già te l'ho scritto i minuti che tu fai ogni volta per me sembrano sempre pochi e non faccio il tempo ad iniziare che purtroppo già è finito il video ecco e mi ha colpito tantissimo con questa cosa e ci tenevo particolarmente a farti questo piccolo sketch diciamo infatti oggi non pubblicherò la ricetta ma sicuramente la metterò domani perché avevo in programma di mettere quello degli abbracci fatti in casa perché ho ritenuto più opportuno che insomma dedicavo questa cosa a te perdonami se sono ancora ripetitiva ma io non ho veramente le parole detto questo comunque vi invito ulteriormente ad andare nel suo canale perché io lo trovo veramente valido valido di contenuti e si imparano veramente tante cose e magari quello che già sappiamo lo possiamo approfondire proprio attraverso i suoi video e niente quindi io spengo virtualmente con voi e anche con te mister le candeline questa è una panoramica vi sto facendo della mia torta e niente io ringrazio ancora tutti quanti non pensavo mai di fare un video di questo tipo e specialmente di conoscere persone come voi perché come mister ce ne sono tantissime altre e a questo punto veramente colgo scusate il rumore di sottofondo colgo veramente l'occasione di di salutare tutti quanti e grazie veramente di cuore a uno per uno e niente vi auguro di passare un buon pomeriggio e ci vediamo domani con una nuova ricetta mi raccomando non mancate e vi abbraccio profondamente a uno a uno ciao a tutti di mary